Ok Rihanna, riproduci un audiolibro. Ok Rihanna, metti un po' di musica rilassante. Ok Rihanna, che ore sono? Sì e me, grazie. Vedete, mi ci sono volute tre persone e un discreto montaggio video per fare qualcosa che probabilmente avrei potuto fare in un secondo. Come? Grazie alla tecnologia. Ok Google, partiamo con il video. Pensavo mi avessi sostituito, non so se la nostra relazione potrà... Ciao, sono Rihanna, ho 22 anni e frequento architettura presso il Politecnico di Torino. Io e i miei amici, Nicola, Ashraf, Sofia e Nicolò, vi porteremo alla scoperta della tecnologia e di come essa stia cambiando le nostre vite, attraverso il nostro blog, The Innovation Quest. Trovate tutti i link in descrizione, state aggiornati. Ciao! Ok Rihanna, perché questa volta non la riproduci tu un po' di musica da Spotify? Devo fare sempre... Ciao! 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 Ciao!